che fai? leo? papà che fai lì? esci! esci! madonna madonna, come ti fa? e adesso è la volta di corona grazie a voi e mi manda tante birrette 3,2,1 change! guardate i vestiti 6,2,1 change! guardate i vestiti 6,2,1 change! guardate i vestiti la sesta! 6,2,1 change! Grazie a tutti